Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori barre per attrazioni. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo al video. Quindi cominciamo con la barra per attrazioni ISE. Iniziamo questa top con il modello essenziale di sbarra per pull up che è davvero il modello classico ed economico da avere quando si inizia a praticare questo sport. Infatti a differenza delle semplici sbarre per pull up questa è super pratica perché permette di variare gli esercizi per far lavorare tutti i muscoli del corpo. E' possibile eseguire trazioni pronate, supinate, a presa neutra, larghe o strette. E' inoltre possibile installare annelli per lavorare sulla stabilità e sull'avanzamento degli allenamenti. Poi troviamo la barra per attrazioni One to Fit. Ecco un altro grande modello All in One che vi permetterà di lavorare perfettamente su tutti i muscoli della parte superiore del corpo. E' possibile eseguire le trazioni con molte prese diverse ma potete anche lavorare gli addominali in modo molto semplice con le gommitiere e le alzate delle gambe. Inoltre sono presenti manili per eseguire le dip in modo da far lavorare i muscoli pettorali e svolgere un allenamento completo con i pesi corporei senza l'ausilio di alcun attrezzo. E per finire ecco la barra per trazioni Cracks al Board. Per concludere ecco un modello meno completo ma molto top di gamma con questo modello. Per quanto riguarda la forma della barber pull up abbiamo un modello super pratico da usare che consente di eseguire diversi tipi di pull up. L'aspetto positivo è che si tratta di un modello in legno per alcune persone è più comodo, più ecologico e di migliore qualità soprattutto in termini di durata. Ecco grazie per aver seguito questo video spero che ti sia stato utile. Non esitare a mettere un like, un commento, e di iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione. Puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.